Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito dei controlli amministrativi a massa, programmati a seguito della riduzione operata dal Governo lo scorso 21 marzo e le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, ha eseguito 245 controlli. I servizi sono stati condotti su strada attraverso i controlli di 79 automezzi per il trasporto di prodotti petroliferi e di 93 distributori stradali, anche per verificare il possesso delle autorizzazioni per la distribuzione di carburanti per autotrazione, dei documenti di trasporto, la corretta pubblicità dei prezzi, la loro esposizione al pubblico nonché l'avvenuta comunicazione periodica dei prezzi al Ministero dello Sviluppo Economico. Il piano di intervento ha consentito di riscontrare 14 casi di irregolare pubblicizzazione dei prezzi praticati e l'omessa comunicazione di aggiornamento prezzi al Ministero dello Sviluppo Economico. Le sanzioni amministrative vivevano da 516 a oltre 3.000 euro per singolo gestore. Inoltre a Pozzoli le fiamme gialle del gruppo di Giuliano hanno scoperto un sito di stoccaggio per vendita di GPL completamente abusivo. Sequestrate 65 bombole contenenti 755 kg di GPL, due bilance professionali, un motorino elettrocompressore artigianale con pistola erogatrice completa di manichetta artigianale in acciaio, un quaderno contenente annotazioni di vendita extra contabili dal cui esame le fiamme hanno constatato un consumo in frode per 8,7 tonnellate in totale evasione di imposta. Alcune delle bombole rinvenute risultavano alterate mediante pitturazione e prive del prescritto cartellino di collaudo, denunciato un quarantenne di pozzuoli per frode in commercio e violazioni alla normativa inerente alla prevenzione incendi. A Casoria infine la compagnia di Casano Nuovo di Napoli ha sequestrato all'interno di un'area una cisterna priva di certificazione antincendio contenente 1.300 litri di gasolio di contrabbando, denunciando un 49enne di Casalatore per ormessa denuncia di materiali esplodenti.